Nel girone C di terza categoria per quanto riguarda la delegazione di Catanzaro non va al di là del pareggio 1-1 l'Escalibur con prezzorio fronte a Longobardi e quindi consente alla marca vittoriosa con un secco 5-1 sul Maeda di allungare in classifica e portarsi a 4 punti di vantaggio appunto sulla squadra inseguitrice. Le altre due squadre che seguono sono il Mach3 e il Conflenti che hanno vinto rispettivamente il Mach3 2-0 contro il Serra Stretta e il Conflenti che da questo punto di vista è andato a vincere nell'anticipo di sabato invece con il Cortale per 1-0. Da segnalare infine il buon pareggio 0-0 del giripalco contro l'atletico Ferroleto che fa rimanere la squadra di Vitaliano al quinto posto in classifica quindi con la speranza di potersi inserire nella zona play-off.